Vito Panzarella, prego di venire qui, ha iniziato la sua attività sindacale nel 91 presso la Fenella del Will di Como, dal 98 a oggi è segretario generale della Fenella del Will Lombardia, a partire dagli anni 90 è nel consiglio di amministrazione della scuola di lì di Cremona, dell'ESEM di Milano, dell'istituto Bazzi, del forum ed il regionale Lombardia di cui attualmente è vicepresidente. Panzarella è attivo da quasi 20 anni nel nostro sistema, vogliamo sottolineare la costanza e il senso costruttivo del suo contributo, io prego anche il vicepresidente che lo conosce molto bene, che ha collaborato con lui, eccetera, se vuole dire due parole. Di non casarsi troppo, di continuare con la costanza e l'impegno che lo ha caratterizzato in questi anni, perché voglio dire, alla fine il sistema ha bisogno di continuità e quindi i giovani, tra virgolette, sono i soggetti che dovranno garantirla questa continuità, non dimenticandosi mai di chi li ha preceduti, che hanno qui il presidente di un attimo fa, Donati, mio presidente, ce lo ricordavamo un attimo fa, in Lombardia e buon testimone, è un riferimento certo, quindi una guida sicura anche per il futuro e quindi Panzarella insieme a tutti gli altri giovani dovranno continuare a guardare non solo con simpatia, ma anche come guida per la prospettiva del sistema. Comunque complimenti.